ciao a tutti come state speriamo bene allora oggi siamo ancora qui e c'è anche azzurra un'altra cuoricina siamo ancora qui raga perché abbiamo altri pacchettini di vinted quelli che mancavano allora ve li facciamo vedere subito allora vediamo questo qui facciamo vedere questo qui questo è della vittoria pigret raga è una pochettina molto carina mi ha colpito subito sul sito di vinted e l'ho presa questa l'ho pagata raga questa l'ho pagata raga 22 euro guardate una semplice pochettina a mano che va portata così vabbè d'altronde le pochettine raga come si portano a mano vabbè alcune hanno da quel che so anche io le portavo ed hanno anche le tracolline le mettete a tracolla però questa qua è una semplice pochettina a mano raga guardate che bella e bellissima della vittoria sigret ok il prezzo ve l'ho detto io qui non c'è ve l'ho detto io allora poi abbiamo qui un altro pacchettino nel quale allora questo è della marlou gioiellini marlou e vi faccio vedere cosa abbiamo preso cioè cosa ho preso questo qui che è un braccialettino un braccialetto raga guardate che carino fatto a perline così c'è il cuore il cuoricino così il cuoricino così poi è adornato da queste questo filo dorato adornato di queste perline la sua chiusura con il suo moschettone che sto guardando per la prima volta con voi infatti avete notato sicuramente e questo è il bellissimo braccialettino che ho preso della marlou come terzo prodotto raga vi faccio vedere un altro gioiellino marlou guardate sempre della marlou a me piacciono tanto raga i gioiellini della marlou voi li avete mai presi? ditemi qualcosa cosa avete preso? cioè vi è capitato di prendere un gioiello della marlou vi piace? ditemi questa raga questa è la dea della fortuna come ce l'ho tra l'altro sulle orecchie sul lobo delle orecchie guardate come orecchini e manca fare apposta farò il set però diciamo questi qua li ho presi in un negozio a parte questi li ho presi su Vinted vi faccio vedere com'è è in acciaio raga ah scusate anche il braccialettino è in acciaio è una collanina che d'altronde ha fatto anche il nodo e devo sciogliere però c'è il mio marito che è molto bravo e la scioglierà sicuramente anche perché mi viene male se no comunque è così guardate il nodo che si è formato comunque questo è il quarto e il quinto raga è il più grande guardate ma cosa ci sarà cosa ci sarà in questo vediamo io l'ho aperto già lo so per me è la cosa più bella questa borsa della Vittoria Tigre guardate scusa dura ti copro un attimo guardate della Vittoria Tigre che adesso apriamo scusa mi un attimo amore ma sta borsa prende tutto eccola qui raga guardate è molto carina della Vittoria Tigre e c'è scritto qui qui guardate Vittoria Tigre e diciamo è un bauletto raga a me mi hanno sempre fatto impazzire i bauletti qui all'interno c'è la sua la sua non pluriball comunque le carte che scoppiano scoppiamo si è capodanno allora poi ce ne sono altre altre ancora e poi ce ne sono altre ancora qui è così rossa con le sue taschine guardate no veramente ce ne è una raga di taschina però è anche bella comunque capiente guardate e dentro è fatta con le sue scritte raga potete cioè ci capite qualcosa come vi devo far vedere non lo so se riuscite c'è scritto sempre Vittoria Tigre all'interno e questa pagata voleva 35 euro raga io gli ho fatto l'offerta che voi lo sapete ormai io sono la ragazza delle offerte loro lo sanno su Vinted e mi ha fatto 30 euro e niente comunque sono contenta raga il video finisce qui se vi è piaciuto lasciate un like se non siete iscritti iscrivetevi al canale e se attivate la campanella sarete sempre aggiornati sui nostri video noi vi auguriamo come sempre buona giornata e ci vediamo al prossimo video ciao